buonasera amici e amiche di nova news 24 parliamo nuovamente di lui edoardo donna maria retroscena sul suo possibile ritorno sì ma non stiamo parlando del ritorno con antorella fiordellisi ma bensì a forum ecco cosa riporta l'ultima indiscrezione su edoardo che era stato a quanto pare allontanato dal celebre programma è arrivata l'ora di smentire pochi giorni fa alcuni esperti di gossip avevano condiviso la notizia secondo il quale l'ex geffino non era più tra i convocati di forum oggi però a distanza di poche ore dalla precedente affermazione sono tornati tutti sui loro passi hanno affermato che nella prossima edizione di forum ci sarà lui l'ex di antonella fiordellisi la rete ci ripensa o meglio la padrona di casa di forum ha deciso di richiamare doardo donna maria l'ex di antonella fiordellisi sarà infatti nuovamente dal programma per due o tre giorni a settimana con queste parole l'esperto di gossip amedeo venza ha riportato l'indiscrezione che vedrebbe il ritorno di donna maria dalla prossima stagione del celebre programma giuridico condotto proprio da lei barbara parombelli che evidentemente ha un bel rapporto con edoardo naturalmente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in quanto lo diciamo e lo risottoscriviamo come è stato fatto notare non è detto ancora nulla di certo non è uscito un comunicato ufficiale definitivo mediaset ancora non ha dato la formazione completa nella prossima edizione di forum ma attenzione quello che sembra è la linea proprio antitrasce di persivio berlusconi potrebbe essere ovviamente un cambiamento radicale anche se proprio edoardo era purtroppo tra quelli indiziati nel grande fratello vip perché era uscito proprio per una squalifica ovviamente è comunque un ragazzo ci pensiamo ci teniamo proprio a precisarlo un ragazzo che ha sbagliato ma sicuramente ha una certa carriera alle proprie spalle proprio a forum ha sempre fatto il suo lavoro in maniera a dir poco impeccabile intanto amici di nuova news 24 l'acuta osservazione è stata bruttamente smentita e rismentita ancora dobbiamo prendere con cautela tutte queste informazioni ma sembrerebbe proprio che edoardo donna maria parteciperà alla prossima edizione di forum lo sapremo fra qualche giorno vi terremo aggiornate intanto diteci cosa ne pensate se vi è piaciuto questo di articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nuova news 24